ciao raga oggi nuovo video di The Sims 4 e vi ricordo che grazie al sito Univ potete acquistare The Sims e le varie espansioni con un ottimo sconto attraverso il mio codice LIF quindi L-I-F mi raccomando non imbrogliatevi con la parola LIFE del mio canale ma adesso vi lascio al video L-I-F mi raccomando 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 Grazie. Grazie.